ciao amici e amiche mashroom 2 andiamo di campagna ragazzi insieme 2 addirittura completo il primo episodio per sbloccare il secondo video di che cosa intro novità vabbè andiamo a giocare ok ok mashroom wars 2 allora spostarsi tra gli edifici ok ci siamo ok r1 ok io credo che dovevo fare così forse allora io l'uno l'avevo già giocato raga torna la mappa victory flowers flower victory beh il primo è andata bene il primo è andata bene mashroom si incrementa a livello di villaggi velocità generazione delle truppe mentre capisci e farsi incrementa la richiesta ok quindi in teoria se io faccio forse ne mando 8 una la conquista siamo due contro uno guarda come poi giuncono credo che col triangolo vanno direttamente i villaggi si 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 già fatto allora dobbiamo forse far crescere aspetta cosa è successo perché stessando cosa succede ah si è voluto urca dobbiamo aspettare un po guarda che roba ok quando c'è cosa vai dico quando c'è segnalino per poter fare l'evoluzione vai gianni torna la mappa ok adesso ho capito forse questo è il primo un fungo che si beve il cafferazzo un'abbiazzanza un'abbiazzanza conquista tutti i nemici ok allora ci arrivano prima loro però l'ho conquistato io ok cresciamo porca no allora allora qui mi stanno massacrando qui 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 ti dicevi quanto sembra qui 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 ok cioè fatemi crescere forza no sbaglio sempre oh madonna ragazzi che roba sono neanche Ehm... Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' bello tosto, impegnarsi un attimo. E' bello tosto perché non stanno lì tanto a... Allora, adesso puoi scegliere se vuoi inviare l'edificio. Ah, ok. 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 Allora, adesso sto facendo crescere, raga, al massimo perché lui ne ha 80, quindi io forse con tutti e tre non riesco neanche a avere 80. Ah, devo averne 80, eh. Vediamo un attimo quanto... 40, 60, 60... Sì, ci siamo. Ok. Ok. Un bel tropeozzo. Un LEAD. Un DEAD. Ok, questo... Ok. 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 È un gioco bello tosterello. Credevo che era più tranquillo. Tutorial Tori. Sinceramente credevo che era più tranquillo. Però non è così. Ok. Ah, le torri. Ok. Ok. Porca. Ok, la torre. Ah, quelli della torre stanno nella torre. Ok. Allora. Ok. 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 Oh, che loco! Oh, no, 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 no ah quanti ce n'è non riesco a stare a spasso ah ecco di parte continuo ad attaccarmi incredibile ragazzi la vedo veramente dura io questa partita persa la torre persa la torre è tosta è tosta è tosta è tosta lo vedo malissimo lo vedo malissimo beccala dai amandati che cosa dobbiamo fare facciamo il mano tutto lo aiuto l'ultimo disperato tentativo tentativo madonna allora vai abbiamo sbagliato subito qua ok subito qua perfetto no sei serio ho tolto una torre per fare sta roba mamma mia no non lo sapevo ragazzi qui qui non sì sì qui non sì la è ci Io non ho capito che stai ciao bisogna essere mega aggressivi ragazzi ok andiamo attaccare con tutti a e 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 mega aggressivo drums eh 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 bella mega aggressive degressive incredibile incredibile allora sì 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 subito subito ok 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 facciamo diventare tre nostre no 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 allora 25 22 dai dobbiamo progredire così riusciamo a fare un bel numero dobbiamo cominciare a conquistare qualcosa da no 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 autore no o at unwett Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, spostarsi tra gli edifici. Sì, ho capito come si fa a spostarsi tra gli edifici. Mi sa che ho sbagliato il tutorial. Credo di aver sbagliato il tutorial. Ah, infatti. Ah, aspettiamo. Allora, forza. Allora. Urca. Dai. Mi ha massacrato tutto. Allora. 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 Oh. Allora. 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 massacrato 500 funghetti tutorial cucine mi interessa tipo di edificio non pulisce unità ma mentre l'attacco alla difesa del tuo esercito ok 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 porca nooo non ammazzarmi nooo stai calmo andiamo a aumentare il livello così fanno molte più truppe più velocemente ma se ce n'è qui succede qualcosa non ci credo non ci ah no è mia mia siamo arrivati al massimo nooo cacchio ho sbagliato perfetto col cerchio credo che la faccia diventare più ah me la fa trasformare in una cosa cerchio la fa trasformare in una casetta cerchio la fa diventare in questo qui delle armi l'altro fa diventare una casetta e triangolo vediamo il triangolo che cosa fa diventare ragazzi facciamo il potenziale al massimo così voglio vedere cosa succede intanto adesso li massimo apriamo niente potenziamenti e niente torre vabbè vai caramba tucendo tutti armati e ancora riescono victory flower fantastico raga fantastico dai famo l'ultima sbattagliazza Uh bello Ultima sbattagliazza megagalattica Poi ci vediamo nel prossimo svidiozzo Dai 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 Allora Stanno già andando a conquistare loro Stanno già andando a conquistare E forse ce la fanno anche No No ce l'hanno fatta Ce l'hanno fatta Allora livello Stanno già andando Poi si Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il esercito pazzesco che ho spostato. Allora, non ho capito perché non mi ha dato due stelle. Probabilmente c'è qualcosa da fare per le due stelle. Ah, perché è media. Adesso comincia ad essere più tosta, più tosta. Bella raga. Poi c'è il multiplayer, il gioco personalizzato. Due verso due, uno verso uno, 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 uno. Uno verso uno, verso uno, e uno verso uno. Con amici o col computer. Bella, bella, bella. Gioco personalizzato, vedi? Marco Drums. Posso giocare con un altro pad sempre sul mio TV. Sulla mia play. Oppure aggiungo un amico ID. Caspita, fico, fico, fichissimo. Va bene ragazzi, alla prossima. Mesh, room, wars, 2. Alla prossima. Mi raccomando di seguire il mio canale YouTube. Ma anche iscrivervi, commentare, mi piace. E anche il mio canale Twitch, dove faccio mega live alle ore 21 tutti i giorni. E sabato e domenica anche una live in più alle ore 3, alle 6 del pomeriggio. Comunque seguite sempre quando le faccio, se per caso qualche volta non le faccio. Se ritardo, se non ritardo, se faccio un gioco piuttosto di un altro. Il mio canale Facebook, Twitter, Instagram, Discord, WeChat e basta. E Telegram, ecco che ce n'era un altro che non ricordavo. Ciao a tutti da Marco Drums Games, c'è un Warioors 2 e tanti tanti altri giochi. Poi seguiranno altri video di questo mega gioco. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima puntata con Meshroom e Marco Drums Games. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie.